oggi andiamo ancora un po' avanti andiamo avanti con javascript come linguaggio ovviamente e prima di tutto finiamo di vedere le date che era l'ultimo argomento della lezione scorsa poi iniziamo un esercizio e la lezione di oggi interamente la dedichiamo poi ai metodi funzionali e al callback vediamo se iniziamo a dire qualcosa sulla programmazione asincrona che poi sarà però oggetto della settimana prossima quindi questa settimana la dedichiamo a fare un esercizio che che fra poco facciamo a vedere come si crea anche un progetto e come si importano delle librerie dentro un progetto javascript che non abbiamo visto la settimana scorsa e e poi appunto sperimentiamo un po' su questo esercizio con i metodi funzionali e andiamo avanti poi da lei ma prima di tutto date date perché è un esempio di una libreria esterna che useremo e possiamo già usare nell'esercizio di oggi per gestire date ore fusi orari e quant'altro javascript ha un oggetto date al suo interno questo microfono non funziona ed è un intero semestre che io faccio lezioni in questa tavola e fa così ed è un intero semestre che lo segnalo ma continua a non funzionare e non devo muovermi e ogni tanto va dicevo javascript ha un oggetto date su interno che quindi gestisce le date le ore e quant'altro ha una precisione a millisecondo contando dal primo gennaio 1970 quindi epoch e ha una diciamo così pessima gestione però dei fusi orari per cui la maggior parte dei metodi nativi in javascript per l'oggetto date funzionano solo in local time quindi nel nell'orario impostato sul server sul computer dove il programma sta in esecuzione in quel momento quindi se noi facciamo girare a funzionare un programma javascript vedremo gli orari usando il metodo date nel nostro fuso orario quindi del central european time che è utc più 1 più 2 questo ovviamente è un problema se uno vuole fare conversioni di fuso orario vuole mostrarlo in utc eccetera inoltre la formatazione delle date è locale quindi sempre in questo caso sarà se il computer impostato su un locale di data ora e quant'altro in italiano la formatazione sarà italiana e viceversa se sarà in un'altra lingua e dipendente dall'implementazione specifica della versione di javascript che usa che usa l'oggetto date utc versus local time come fusi orari sono confusi e i confronti tra date sono difficili non è previsto nessun metodo per confrontare efficacemente date ore quant'altro quindi c'è un oggetto date in javascript è un oggetto base può essere utile in alcuni casi ma per tante altre operazioni un confronto di date sapere se una data è prima di adesso sapere se una data è dopo di adesso o convertire tra fusi orari non è ottima quello che in pratica quindi si fa dato che date ha diverse limitazioni e si usa e usare librerie esterne per gestire date e ore e in questa slide ce ne sono un po ce ne sono cinque e noi in questo corso useremo djs che questa che ha la stella praticamente fino a qualche anno fa la libreria per gestire le date una delle librerie per gestire più date era moment js che adesso è un po deprecata in alcune funzionalità e la cosa positiva di djs che è compatibile ed è molto simile a come funzionava moment js quindi è in un certo senso un'evoluzione futura coerente esistono poi altre librerie tipo luxon o questa date fns che permette di fare confronti da date in maniera puramente funzionale e quindi usa solo unicamente metodi funzionali o quant'altro sono tutte alternative valide noi dobbiamo sceglierne una è quella che più coerentemente con moment js che fornisce tanti esempi anche sul web se cercate era appunto djs che anche l'avvantaggio di essere veramente piccola come libreria modulare e molto flessibile quindi ci permette di usare la parte core per le cose base ma se ci servono estensioni possiamo sempre installare aggiungere estensioni per fare cose più avanzate e inoltre djs funziona sia nel browser che su node che non è un vantaggio da poco e permette di fare localizzazione appunto un sistema di plugin per estendere le funzionalità e tutti ha come caratteristica che tutti gli oggetti sono immutabili quindi tutte le funzioni che questa libreria offre per modificare una data ritornano sempre un nuovo oggetto una nuova data non modificano mai la data iniziale qui ci sono due esempi su come si installa e si importa me lo vediamo dopo e poi queste slide coprono in parte la documentazione di djs per esempio qui mostrano come si può creare delle date e si crea una data oggi semplicemente chiamando djs e questa è la data di oggi in questo momento ma si può anche creare una data passando una stringa che rappresenta in modalità anno mese giorno e ora o anche solo anno mese giorno e l'ora sarà mezzanotte e direttamente un oggetto un oggetto di tipo date oppure in altri in modalità tipo questa sotto cifre passandoli un oggetto date javascript passandoli un timestamp unix ci sono molteplici modi per creare date e allo stesso modo ci sono molteplici modi per visualizzare date e anche in maniera custom quindi per esempio attraverso il metodo format è possibile specificare qual è il formato di data che vogliamo visualizzare quindi in questo caso quattro cifre per l'anno trattino due cifre per il mese una stringa delle parole e poi due cifre per il giorno e noi possiamo scegliere di conseguenza come formattare liberamente le date e esiste anche un metodo to string che prende semplicemente la data in djs e la mostra schermo nella modalità standard di default e poi appunto ci sono vari altri componenti per impostare e leggere date per fare conti sulle date aggiungo un giorno alla data odierno voglio sapere quanto è fra tre mesi e due giorni della data odierna voglio sottrarre un giorno un anno dalla data odierna eccetera quindi ci sono metodi per aggiungere sottrarre giorni mesi anni eccetera e ci sono anche metodi per confrontare o per sapere se di nuovo una data è prima dopo se tra due date e quant'altro quindi metodi per gestire funzionalità simile a un calendario per esempio per cui io ho un evento e voglio sapere se quella data di quell'evento è magari prima o dopo una certa dato tra due date o tra due date due ore specifiche per capire se sono in un range accettabile oppure no e come dicevo djs anche una serie di plugin che si possono installare utilizzare a parte e come per esempio un plugin per vedere se un anno è un anno bisestile oppure no quindi non è una funzionalità offerta di default ma è un plugin esterno che si può aggiungere installare di conseguenza usare dato che non è una funzionalità essenziale utile o utile per la maggior parte dei casi l'hanno resa come plugin esterno che però compatibile e quindi da aggiungere e e poi appunto gestisce la localizzazione e l'internazionalizzazione e aritmetica sugli intervalli conversioni tra fuse orari diversi e quant'altro questo è giusto due parole poi ovviamente djs ha un suo sito con una sua documentazione che vi racconta tutto quello che c'è bisogno di sapere come si installa in un nod in browser come si fa in parte anche quello che abbiamo visto come si fa il parsing delle date l'oggetto now che ci da un oggetto dei js al momento attuale al momento in cui è stata eseguita quella riga metodi per mostrare per esempio il format che vi dicevo prima in cui è possibile formattare l'output di come viene visualizzata una data in stringa con tutte le opzioni che potete immaginare probabilmente e più altri formati dipendenti da eventuali plugin che sono disponibili e così via quindi metodi per verificare se una data è tra questo no perché richiede un plugin tra e dopo una certa data quindi vedo se la data attuale dei js il costruttore is after una data che costruisco al momento e in quel caso mi dice se sì o no e posso anche specificare una granularità diversa quindi posso sapere solo se il mese e l'anno sono dopo rispetto a una certa data quindi non mi interessa il giorno ma solo se il mese l'anno e dopo solo l'anno e dopo quindi posso anche avere una granularità diversa e per i metodi come is between vi fa vedere il funzionamento e anche vi dice che ha bisogno di un plugin specifico per funzionare quindi quando non c'è la scritta in giallo nella documentazione vuol dire che è inclusa nel core altrimenti serve un plugin esterno per funzionare ok allora vediamolo in un brevissimo esempio così lo usiamo per anche creare un nuovo progetto node e per importare una libreria poi noi importeremo questa libreria ogni altra libreria che importeremo da oggi in poi si importa nello stesso identico modo allora dato che abbiamo delle dipendenze con una libreria esterna da installare e perché da installare dei js se voi andate nella documentazione vi dice che per node bisogna fare una di queste operazioni e poi importarla nella libreria nel nel progetto per creare un progetto in node ci serve aprire il terminale e usare il comando npm che è installato insieme a node quindi installando node avete installato anche npm e perché era un progetto che quindi tenga traccia di tutte anche le dipendenze necessarie a a quel progetto javascript che stiamo scrivendo possiamo utilizzare npm init quindi npm init inizializza un nuovo progetto vedete là in fondo ultimissima fila proprio ultimissima fila sì ok se voi date invio npm init vi racconta che cosa fa npm init e poi vi dice dimmi il nome del modulo del package del progetto che state creando se il dato invio vi usa come default il nome della cartella che quello indicato tra parentesi quindi per esempio io lascio il default potete indicare una versione di default è sempre quella tra parentesi possiamo mettere 0.01 una descrizione esercizio creiamo un progetto per fare l'esercizio sui metodi funzionali un entry point quindi qual è il file il progetto il file javascript il programma javascript di default che dovrebbe partire quando il progetto viene eseguito in un certo senso di default è index.js voi potete anche chiamarlo diversamente noi lo chiameremo per esempio exercise.js se ci sono eventuali comandi di test se c'è un eventuale reposito di git associato a questo progetto se ci sono delle parole chiave tutti i campi facoltativi senza un default premendo invio si prosegue lasciando vuoto chi è l'autore mettiamolo e una licenza se c'è applicata se si vuole se non si specifica niente viene applicata questa isc che è una licenza open source vi da poi un riassunto di quello che avete praticamente scritto in formato json e se siete d'accordo premete invio e il tutorial diciamo così termina che cosa ha prodotto questo processo ha prodotto un file nuovo che prima non c'era che si chiama package.json che è un file json che contiene esattamente le informazioni che noi abbiamo inserito con il processo di init per cui se vogliamo se volessimo modificare alcune di queste informazioni basta modificarle all'interno di questo file e ogni progetto javascript anche quelli che installate anche djs ha un suo package.json package.json contiene le informazioni per descrivere un progetto e i suoi file all'interno contiene le informazioni per lanciare un progetto ed eventuali script dove di default c'è uno script di text che è vuoto ma conterrà anche tutte le dipendenze che andremo a installare quindi quando adesso andremo a installare djs comparirà qui djs come dipendenza questo vuol dire che passando il progetto a qualcun altro con questo file package.json ci sarà un comando per installare tutte le dipendenze elencate in questo file package.json e quindi avere il programma pronto da utilizzare in ogni momento quindi abbiamo inizializzato il progetto come installiamo come installiamo djs, come installiamo qualunque package lo installiamo sempre con npm install e il nome del package della libreria da installare in questo caso djs si chiama djs esiste anche una versione breve di npm install che userò ogni tanto che è npm i npm i djs e npm install djs sono la stessa identica cosa e adesso facciamolo con la versione lunga ma è uguale premendo invio se avete una connessione internet lui scarica il package in questo caso djs è un package da 2 kilobyte quindi è veramente piccolo e ci mette un attimo a installare e vi da il risultato dell'operazione e vedete cosa è successo nei file si sono creati una cartella e un altro file package.log allora in package.js andiamo a vedere che è comparso un dependency che è djs alla versione che abbiamo installato oggi quindi senza specificare una versione di djs si installa l'ultima versione disponibile npm install djs installa l'ultima versione disponibile ma quando si fa npm install si crea anche un package.log che contiene più informazioni su ogni pacchetto installato e le sue eventuali dipendenze in questo caso djs non ha dipendenze esterne ma se installassimo un qualcosa che ha ulteriori dipendenze in package.json troveremmo solo quello che abbiamo installato in package.log troveremmo quello che abbiamo installato e tutte le sue dipendenze elencate questo package.log viene creato tutte le volte che una persona fa npm install da zero se il file non esiste facendo installa tutto si crea questo file e insieme a creare questo file si crea una cartella che si chiama node modules che contiene i sorgenti delle librerie dei pacchetti installati quindi in questo caso abbiamo solo installato djs e quindi qui c'è la versione scaricata di djs che per esempio vedete ha un suo package.json che descrive un po' più lungo di quello che abbiamo creato noi perché ha le keyword ha un repository e quant'altro e ha una serie di dipendenze per lo sviluppo ma non ha dipendenze non per lo sviluppo perché infatti noi non abbiamo scaricato niente al di fuori di djs però ogni modulo ogni pacchetto javascript ha il suo package.json e quindi qui se voleste potreste andare a vedere se voleste come per esempio funziona fatemi trovare it come funziona la gestione del locale delle date italiano quindi qui è una funzione non è molto leggibile è tutto condensato per occupare meno spazio perché gli a capo pesano byte quando sono scaricati alla fine su un progetto intero quindi qui è tutto compresso e compensato abbastanza quindi si può anche volendo ispezionare il sorgente se voi partite da se dovete passare il progetto a qualcun altro o ricevere il progetto da qualcun altro magari io ecco io sto sviluppando su su mac lo devo passare a un'altra persona usando windows quello che potete fare e possiamo provare a farlo così vi faccio vedere tutto è cancellare per cui noi non metteremo mai per esempio come nelle soluzioni il file node modules e il package lock lasciare solo il package.json e eventuali altri file necessari a progetto facendo così ovviamente djs è da reinstallare ma dato che compare già nel package.json non ci serve riscrivere npm install djs come abbiamo fatto prima perché abbiamo già inserito la dipendenza nel progetto ci basta dire npm install npm install 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 tutte le dipendenze disponibili nel package.json quindi va a leggere se c'è un file package.json se c'è va a leggere le dependency e se c'è una dependency in una versione scarica e installa quella dependency quindi npm install o npm i è uguale riscarica djs ricrea il package.lock e ricrea node.modules esattamente come installare una libreria per la prima volta ok fin qui sì ok allora facciamo un altro passo creiamo un nuovo file abbiamo detto lo chiamiamo exercise punto javascript proviamo a usare djs per fare giusto per prendere la data e ora attuale e stamparla a schermo niente di particolare qual è la prima cosa che dobbiamo scrivere in un file javascript abbiamo detto use strict la seconda cosa che dobbiamo fare è importare nel nostro file djs perché l'abbiamo installato ma non stiamo dicendo a nessun progetto nessun file javascript di usarlo allora ci sono due modi per importare file per importare librerie uno è quello standard di node che si chiama common js che è il modo standard di node che non è il modo standard per javascript quindi javascript ha un suo modo standard di importare ed esportare librerie o file o programmi in node js c'è un altro modo che non è quello standard di javascript qual è questo modo common js si definisce una variabile chiamatela come volete quindi const dei djs per esempio e poi si scrive require djs quindi questo è equivalente a quello che in altri linguaggi è import djs e a questo punto abbiamo la libreria collegata a questa variabile a questa costante a questa variabile costante djs e quindi possiamo per esempio scrivere let oggi uguale djs console.log oggi qualcosa di quindi creiamo un oggetto che contiene la data l'ora i minuti i secondi eccetera di questo momento quando lo eseguiremo e lo stampiamo a schermo quindi se noi salviamo e lo lanciamo quindi node exercise punto js vediamo la rappresentazione grezza diciamo così dell'oggetto data di djs che cos'ha questa rappresentazione all'interno ha una lingua di default che è l'inglese ha una stringa che rappresenta l'intera data e poi separa questa di nuovo è la rappresentazione grezza non è la rappresentazione formattata fatta bene gli anni i mesi i giorni le ore i minuti i secondi i millesecondi e ha una variabile che dice se è un oggetto di tipo djs oppure no in questo caso l'abbiamo creato dice di sì cosa notate notate qualcosa di strano in questo oggetto dovreste notare due cose di strano in questo oggetto o in questa stampa a schermo allora sì questo è la rappresentazione stringa dove la z sta per utc quindi questo è l'ora attuale meno un'ora in questo momento e un'altra cosa invece qui dà l'ora giusta l'ora locale e un'altra cosa dovreste notare il mese il mese qui dà due perché il mese e solo il mese in djs parte da zero in questa rappresentazione quindi quando voi andate a stampare il mese con una modalità di formattazione normale lo vedete come marzo 0.3 senza problemi ma se andate a a prendere l'oggetto vero e proprio in questo caso la rappresentazione grezza interna dell'oggetto il mese conterà da zero quindi gennaio è zero febbraio è uno eccetera questo vale solo per il mese non per il giorno non per le ore non per altro però due cose da tenere a mente quando vedete questo oggetto e poi da qui si possono applicare vari metodi quindi per esempio possiamo usare questo format dicevamo e dire che vogliamo stampare solo per esempio anno 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 meno meno mese meno giorno giorno e allora a questo punto vedete che lui ci stampa solo il formato che abbiamo detto noi nel modo che abbiamo detto noi quindi perdiamo la stampa della rappresentazione grezza però abbiamo la rappresentazione in stringa pulita e scegliamo noi come formattare questo oggetto di tipo data in questo caso ok se ok parliamo un attimo dell'import per chi vi ho detto questo è il modo di importare standard di node ma non è il modo standard di javascript quindi quando useremo javascript nel browser quindi col browser come ambiente non potremo scrivere variabile uguale required qualcosa perché quello non è javascript standard quello è proprio di node.js il metodo standard che si chiama esmodule quindi moduli es dove es sta per ecmascript quindi javascript consiste nello scrivere import variabile in questo caso djs o comunque oggetto da utilizzare nel resto del programma from libreria quindi djs dove questo ripeto questo djs è l'equivalente di questa variabile quindi un nome che date voi a vostro piacere se fatemelo tagliare un attimo se voi usate il video studio code dovreste vedere tre puntini sotto il require se voi mettete il mouse sopra vi dice questo è un common js module può essere convertito in un modulo es e se schiacciate su quick fix se schiacciate su serio su quick fix e poi su convert vi fa lui la conversione in automatico dell'import e di tutto quello che è collegato a questo import nel resto del programma con una avvertenza per cui adesso faccio un attimo contro z così avete entrambe le versioni con un'avvertenza che la conversione automatica con un'avvertenza che non tutti i moduli non tutte le librerie sono pronte non tutte quelle node sono pronte per essere utilizzate con la sintassi es quindi la conversione automatica potrebbe generare qualche cosa che poi non funziona quindi tutto è possibile è possibile convertire tutto da common js a s e viceversa ma non automaticamente da javascript che rispetta delle regole fisse per fare alcune operazioni assumendo che tutte le librerie tutti i moduli funzionino esattamente al 100% con s invece non tutti i moduli sono pienamente compatibili con la modalità di scrittura s non tutti i moduli node sono compatibili e quindi alcune volte la conversione automatica non funziona funziona per djs vedete che il risultato è identico a quello che ho scritto a mano ma per esempio la settimana prossima quando vedremo SQLite in quel caso non funziona in alcuni casi non funziona la conversione automatica perché la conversione automatica non converte solo l'import ma converte l'import in base a quello che avete scritto nel resto del programma e quindi va a modificare anche il resto del programma quindi un file scritto in common js che funziona convertito interamente potrebbe in automatico potrebbe in alcuni casi dare per esempio con SQLite lo da però se lo scrivete da zero non avete problemi di sorta quindi se noi volessimo e noi vogliamo usare la sintassi s cosa dovremmo fare perché non ci basta in node e questo è solo un problema di node fare così per cui se noi adesso proviamo a eseguire questo ci dà un errore ci dà un errore che ci dice non posso usare l'import fuori da un modulo e l'errore è esattamente sulla riga import questo perché di nuovo perché node.js di default si aspetta dell'import in modalità common.js supporta gli altri ma come alternativa come versione secondaria non come versione di default e quindi per farlo funzionare dobbiamo fare possiamo fare due cose ma la più veloce e semplice è quella di rinominare questo file e invece di chiamarlo exercise.javascript lo chiamiamo exercise.mjs module.javascript questo dice a node che questo file è un modulo e quindi si possono usare tutti gli import dei moduli es per cui se noi lo eseguiamo esattamente come prima mettendoci la m prima dell'estensione vediamo che il programma non dà più errore ma fa esattamente quello che dobbiamo fare e questo modulo ci regala un'altra cosa gratis come tutti i moduli javascript standard i moduli javascript standard funzionano in strict mode per default quindi non c'è bisogno di scrivere use strict perché ogni modulo applica lo use strict automaticamente quindi possiamo evitare questa riga use strict di default con i moduli es quindi lo strict mode è applicato di default con i moduli es quindi applicando usando i moduli es per importare le cose non solo possiamo utilizzare la sintassi standard javascript ma anche avere in automatico abilitato lo strict mode senza bisogno di scrivere niente senza bisogno di scrivere use strict ogni riga vi dicevo l'altra volta o due volte fa che a un certo punto quando inizieremo react non avremo più bisogno di scrivere use strict questo perché perché react usa i moduli e quindi essendo all'interno dei moduli di default ha lo use strict abilitato quindi tutte le funzionalità di javascript dopo una certa versione di javascript come i moduli per esempio hanno lo strict mode abilitato di default e i moduli sono una di queste le classi sono un'altra di quelle che abilitano di default lo strict mode ok quindi d'ora in poi quando faremo un file javascript su node e solo su node dovremo per usare l'import possiamo evitare di scrivere use strict e dovremo mettere l'estensione .mjs quindi la m di modulo davanti a js per far funzionare i moduli di ecma script e non i moduli di common js che sono quelli con required così abbiamo la stessa sintassi sia in node che nel browser ok questo non fatemelo chiamare exercise fatemelo rinominare come example così possiamo creare un altro file per l'esercizio ok domande ok allora iniziamo questo esercizio così possiamo rivedere un attimo i costruttori che abbiamo visto alla fine della scorsa lezione usare le date e poi abbiamo uno scheleto pronto per raggiungere i metodi funzionali che vedremo nel resto di oggi allora questo esercizio è quello che ci fa partire il progetto delle domande risposte che abbiamo accennato l'altra volta e in parte fatto in qualche piccolo esercizio quindi durante il corso ne costruiremo questo clone sorta di clone di stack overflow quindi qualcuno potrà fare domande qualcuno potrà rispondere ci saranno punteggi sulle risposte eccetera quindi oggi iniziamo a creare le strutture dati che potrebbero servirci in prima battuta per avere queste domande queste risposte quindi cosa dice questo esercizio dice utilizzando gli oggetti di javascript e i metodi della programmazione funzionale che vedremo dopo gestire oggetti che contengono informazioni su domande e le sue risposte in particolare ogni domanda ogni risposta conterrà il testo della risposta l'username di chi ha risposto e assumiamo che lo username sia univoco quindi sia identificativo dell'utente della persona uno score come numero intero che può essere positivo o negativo e una data la data della risposta e ci dice definire una funzione un costruttore che si chiama answer per creare uno o più risposte con queste proprietà e poi ci dice che invece una domanda è composta da il testo della domanda lo username della persona che ha fatto la domanda come prima sarà univoco la data e conterrà al suo interno una lista delle risposte quindi delle risposte fatemelo scrivere con la maiuscola per dire una lista delle risposte dell'oggetto sopra e quindi ci dice definire una funzione costruttrice question per rappresentare una domanda e implementare i seguenti metodi per manipolare le risposte di quella domanda quindi avremo una domanda e molteplici risposte a quella domanda in questo momento e la domanda potrà avere queste metodi che si applicano sulle risposte add che aggiunge una risposta alla domanda find username che serve per trovare tutte le risposte di una persona di una certa persona after date che ritorna tutte le risposte ottenute dopo una certa data list by date ritorna un array di risposte ordinate per data crescente e list by score stessa cosa ma per score decrescenti quindi dal più alto al più piccolo creare un'istanza di domanda con almeno quattro risposte quindi costruttore di domanda costruttore di risposta metodi dentro l'oggetto domanda una domanda quattro risposte e provare poi i metodi che funzionino allora alcuni di questi metodi si possono fare con si possono fare più agevolmente con i metodi funzionali quindi quelli iniziamo a strutturare l'esercizio la soluzione dell'esercizio poi ci ritorniamo dopo che abbiamo visto la teoria sui metodi funzionali per aggiungere la versione funzionale delle delle varie cose però i costruttori possiamo iniziare a farli e anche alcuni di questi metodi come l'add per esempio possiamo farlo ok quindi tutto chiaro il testo allora creiamo questa volta sì un file che si chiama exercise.mjs ci servono le date quindi cosa dobbiamo scrivere visto che ci servono le date import djs e visual studio code quando avete un import non utilizzato ve lo segna come se fosse spento perché avete importato una cosa ma non la state ancora utilizzando non è ovviamente un errore allora l'esercizio ci dice torniamo qua creare un costruttore andiamo in ordine creare un costruttore di risposta con risposta il testo della risposta lo username uno score e una data ok quindi vi ricordate come si costruisce un costruttore da giovedì function poi il nome answer con la lettera iniziale maiuscola e qui ci mettiamo i parametri che abbiamo detto essere testo la risposta lo username lo score e la data poi possiamo dato che è un costruttore di un oggetto possiamo inserire questi oggetti passati nel loro oggetto corrispondente all'interno dell'istanza che verrà creata quindi this.text uguale text this.username uguale username eccetera uguale date ok prendiamo una scelta e facciamo una modifica la modifica è vogliamo far sì che di default lo score sia 0 che ha senso quando creo una risposta non è che automaticamente avrò un punteggio associato alla risposta mi creo una risposta e mi do 10 punti da solo è un po' imbrogliare quindi di default assumiamo che la risposta sia 0 lasciamo la possibilità di impostare uno score ma di default impostiamo la 0 quindi se non è passato uno score sarà 0 vi ricordate come si impostano dei parametri di default uguale 0 quindi score uguale 0 ok ora javascript nelle funzioni i parametri delle funzioni sono posizionali quindi devono essere scritti nello stesso ordine in cui compaiono quindi la prima cosa che passate ad answer sarà text la seconda cosa sarà username la terza cosa sarà score e il quarto oggetto che passate finirà dentro date ed è questo il modo di funzionare di javascript cosa succede se non vogliamo passare score possiamo saltarlo possiamo scrivere scrivo a caso testo cos'è che è l'altro luigi 2024 03 12 possiamo scrivere così secondo voi quindi non passare score perché vogliamo che score sia a 0 no perché no è giusta come risposta ma c'è un perché perché 2024 03 12 verrebbe assegnata score e quindi ci vanifica un po' l'idea di avere score a 0 come possiamo di default a 0 come possiamo risolverlo questo in maniera facile mettendo score in fondo esattamente quindi in javascript i parametri default non è obbligatorio che siano in fondo però se non sono in fondo vanno inizializzati quindi perde un po' il senso che siano in default in caso senza quantificare quindi l'ordine potrebbe scrivere l'idea uguale no javascript non lo supporta come linguaggio sì ma se avessimo più di un attributo di un parametro già inizializzato in caso l'ultimo non fosse in fondo cioè dovessimo sottare l'emono non c'è una parola chiave da poter passare ok quindi sta in fondo possiamo metterli in fondo per quel motivo e questa è una una cosa da notare la decisione da prendere è date lo vogliamo salvare come stringa lo vogliamo passare come stringa e convertire qui in djs lo vogliamo passare come djs qui e quindi qui assumere che sia già un oggetto djs non abbiamo una specifica su questo ma possiamo decidere ci serve a un certo punto un oggetto djs quindi chi lo crea lo crea chi crea l'istanza di answer o lo creiamo in automatico nel costruttore ok quindi djs date quindi se quella data è una stringa valida per essere convertita in data djs la converte e this.date conterrà l'oggetto date l'oggetto data rappresentato da djs ok e questo è la nostra risposta torniamo sull'esercizio una domanda creiamo una domanda quindi function question la domanda cosa testo username data e lista di risposte quindi per crearlo testo username e data non passiamo alla lista di risposte perché quando creiamo una domanda dato che non esiste la domanda non esisteranno neanche le risposte di quella domanda quindi possiamo mettere come parametro di costruttore la lista di risposte perché sarà sempre vuota e quindi this.text uguale text this.username e this.date usiamo lo stesso meccanismo di prima djs date e poi ci serve ovviamente la lista di risposte quindi this.answers uguale array vuoto cioè inizializziamo la lista di risposte che al momento sarà vuota ok? a questo punto possiamo iniziare a dichiarare i metodi che ci servono il primo metodo che ci serve è add answer come definiamo un metodo dentro un oggetto this. this. add poi scriviamolo come arrow function che è più corto uguale answer e poi arrow function e faremo qualcosa possiamo farlo cosa farà questo metodo? deve aggiungere al vettore di answer esatto deve aggiungere al vettore di answer un oggetto di tipo answer quindi cosa scriviamo? this.answers punto push l'oggetto che ci viene passato e questa era facile notate ricordate che qui dobbiamo mettere le parentesi graffe in un arrow function perché senza parentesi graffe farebbe il return del risultato di push invece noi non abbiamo bisogno del return di niente in questo caso se volessimo potremmo ritornare operazione completata o un numero o un qualcosa per dire un dato a buon fine ma ci serve una parentesi graffe perché altrimenti quella riga viene eseguita e viene ritornato l'output di push invece così eseguiamo la funzione e basta quali sono gli altri quattro metodi? find after date list by date e list by score quindi iniziamo a creare solo la struttura this.find cosa ci serve? il nome username e lasciamo lo vuoto al momento creiamo solo i metodi this. after date uguale date arrow function di niente e this.list by date e list by score list by date che non ha parametri e this.list by score che anche lui non ha parametri quindi solo creazione di questi metodi vuoti poi questi li riempiamo dopo list by score list by date e after date li riempiamo appena abbiamo fatto i metodi funzionali il find possiamo invece riempirlo già così poi lo lo modifichiamo col metodo funzionale ma almeno abbiamo il confronto tra come si fa normalmente e come possiamo farlo con un metodo funzionale allora il find diceva restituiscimi tutte le risposte di una persona di uno username passato come parametro come string in questo caso quindi ritornerà un un array di risposte dove username corrisponde allo username di quella persona tre righe di codice quattro righe di codice quali sono? cosa facciamo? volevi dire questa cosa? ci serve un array ruoto prima prima di fare il for giustamente quindi const found answer e poi facciamo il for for const element dicevi element no const answer in o off off these punto answers cosa facciamo poi? if ans punto username triple uguale username così evitiamo confronti conversioni a quel punto se è uguale facciamo una push su found answer push di answer answer e poi abbiamo finito? no ci vuole ancora un return qui di found answers ok? e poi vedremo che con i metodi funzionali queste quattro righe diventano una 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 un po' più lunga ma una ok? poi after date lo lasciamo perdere per un attimo ma abbiamo visto prima che djs ha un metodo che si chiama is after quindi probabilmente useremo quello per confrontare se una data è dopo un'altra data list list by date uguale avremo bisogno di ordinarli per data e quindi troveremo di nuovo il sort che abbiamo visto l'altra volta e list by score stessa cosa ma senza usare le date però proviamo se funziona quindi fatemi definiamo una domanda tanto una sola dobbiamo definirla new question la domanda è è javascript meglio di python così rimaniamo in tema in tema di javascript almeno quindi questa è la domanda l'autore potrei essere io fatemi ipotizzare che lo username sia il nome e cognome che non è necessariamente univoco ma abbastanza e poi cos'è che abbiamo la data e poi lo score la data mettiamo che io questa domanda l'ho fatta a febbraio così le risposte possiamo metterle dopo e così abbiamo qualcosa anche per provare se is after perché se mettiamo tutto fatto oggi non quindi 2024 0,2 27 e lo score non lo mettiamo così va a zero e a questo punto possiamo anche creare quattro risposte const first answer uguale new answer e la prima risposta potrebbe essere sì e la facciamo dare dal nostro esercitatore e la facciamo dare il giorno dopo della domanda 2024 0,2 28 e stavolta gli diamo anche uno score così proviamo lo score magari meno 10 e una seconda risposta fatemi fare copia e incolla il testo diceva quattro risposte quindi ancora un po' magari facciamone tre però giusto per capire e la seconda risposta sarà not in a millionaire e la facciamo dare dal creatore di python così più credibile che si chiama Guido Van Rossum e magari la facciamo dare a marzo magari primo marzo e gli diamo 5 punti come score e poi la terza risposta la chiamiamo no e la facciamo dare da un nome chi Einstein Albert Einstein è un po' poco credibile che la dia nel 2024 a marzo però va bene e facciamo dare il 2 marzo e anzi facciamola dare oggi cos'è il 12 facciamola dare l'11 marzo che era ieri e senza punteggio ok a questo punto aggiungiamo le risposte alla domanda quindi question.ad first answer question.ad second answer e via così question.ad third e poi potremmo per esempio e cos'è che abbiamo implementato il find aggiungiamo però aggiungiamo una quarta allora di qualcuno che compare due volte non lo so è fatto da Luca e la facciamo rispondere al 2024 204 0 3 10 per esempio così abbiamo una risposta data da due persone e facciamo aggiungere anche questa quarta e a questo punto e a questo punto possiamo cercare le risposte da Luca date da Luca date da Luca quindi question punto find e passiamo lo username e poi possiamo stampare sia l'intera domanda così vediamo come viene rappresentata nella sua interezza sia il risultato del find che dovrebbe darci due risposte solo due risposte ok magari fatemi mettere una capo qui e scrivere risposte da Luca e spazio più ok ci siamo dove devo mettere questo punto text no voglio stampare tutto l'oggetto questo proprio intero 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 come viene viene quindi anche con gli altri campi data score tutto quello che ha e non score l'array è su interno poi vediamo come stamparlo meglio però intanto stampiamo tutto ok allora se eseguiamo vediamo vediamo che l'oggetto grezzo domanda ha come testo la domanda come autore me come data la stessa rappresentazione di data che abbiamo visto prima quindi l'oggetto djs creato nella sua interezza e come risposte l'array con le quattro risposte una due tre e quattro dove la data non ce la fa vedere perché la console di javascript al terzo livello di oggetto non ti fa vedere più il contenuto ma semplicemente ti fa vedere che c'è un oggetto quindi se stampiamo la risposta grezza vedremo la data ma dato che questo è il terzo livello perché c'è question c'è la lista e questo è un elemento della lista è un oggetto una data dentro l'elemento della lista l'oggetto complesso ce lo taglia corto così ma c'è una data ovviamente poi ci sono i quattro metodi che non vediamo perché sono funzioni non vediamo l'implementazione perché sono funzioni e poi c'è risposta da Luca oggetto oggetto e oggetto oggetto quindi due due come ci aspettavamo ma non vediamo il contenuto perché non vediamo il contenuto? perché scrivendo così non vediamo il contenuto? perché fa la conversione a stringa perché chiama il to string perché fa la conversione a stringa e la conversione a stringa di un array perché la concatena in due stringhe e la conversione a stringa di un array è la rappresentazione dell'oggetto se noi togliessimo questo parte iniziale quindi lasciassimo solo come per question lasciassimo solo l'oggetto e lo lanciassimo vedremmo invece la rappresentazione grezza delle risposte quindi vediamo che correttamente le risposte sono quelle date da da Luca le due le uniche due risposte sono quelle selezionate quindi il for funziona in un certo senso se volessimo far funzionare invece la concatenazione quindi aggiungere un oggetto un array di answer a una stringa quindi senza fare due console log ovviamente come potremmo fare secondo voi cosa fareste in un altro linguaggio cosa fareste in Java creereste il toString no in answer perché stiamo stampando delle risposte quindi in answer e qui possiamo fare la stessa cosa se esiste un metodo che si chiama toString viene automaticamente chiamato quindi possiamo fare this.toString e decidere come stampare una risposta per esempio potremmo dire persona ha risposto qualcosa in data qualcos'altro con uno score di numero quindi se usiamo un un template literal come scriviamo persona this.username dollaro parentesi graffe this.username ha risposto aperta virgoletta singola dollaro this.text il giorno alla data on dollaro this.date e ha preso uno score di dollaro aperta graffa this.score quindi decidiamo noi come toString ci stampa la risposta in questo caso così ci portiamo dietro tutti i parametri la persona il testo possiamo anche farlo diversamente questa è una frase diciamo di senso compiuto la persona ha risposto qualcosa a una certa data e ha preso uno score di 5 0 meno 10 se c'è uno score lo stampa e c'è sempre uno score perché di default è 0 ora se noi eseguiamo questo ovviamente è un array quindi non viene stampato proprio benissimo perché viene stampato solo per answer però vediamo che il nome ha risposto sì su data e questa è la rappresentazione di default della data e ha preso uno score di meno 10 e poi c'è il secondo il secondo la seconda risposta che ha risposto la seconda cosa e un'altra data la rappresentazione di default della data include l'ora in utc quindi gmt e ha preso uno score di 0 in questo caso se volessimo rendere la data togliere l'ora eccetera rendere solo la data come potremmo fare? con format this.date.format facciamo come prima anno 4 volte meno mese mese meno giorno giorno quindi formato ISO e se facciamo così abbiamo una versione un po' più compatta della data in cui l'ora non ci interessa perché tanto noi inseriamo in questo momento una data di creazione della risposta della domanda non ci interessa in questo momento l'ora precisa in cui è stata inserita ok? domande fin qui? sì funziona anche con il browser sì è standard javascript quello to string standard javascript ok allora facciamo 20 minuti di pausa e poi riprendiamo alle 10 e un quarto per vedere la parte funzionale grazie Grazie a tutti.